A che sono in ginocchio per questa ondata di maltempo, vogliamo definirla correttamente? Che cosa è veramente accaduto in questi pochi minuti? Ho notato che in questo frangente si sono abusati dei termini che non sono assolutamente corretti, tipo uragano, che è tutt'altro fenomeno a vasta scala che prende addirittura nazioni intere e comunque si generano nei tropici, non certo in Italia né nel Mediterraneo. Non si può parlare neanche di tornado, di tromba d'aria perché non si è verificata nessuna rotazione che può far pensare a questo fenomeno. Si è trattato tecnicamente di un downbust, cioè sarebbe praticamente una cella temporalesca convettiva nella sua parte frontale aspirare a calda dal basso e praticamente formando questa nuvola sempre più spessa e sempre più tendente ad andare verso l'alto. Qui si formano queste gocciune di pioggia che tendono a cadere verso il basso, però nella caduta verso il basso praticamente parte di esse evaporano, evaporando sottraggono a calore dell'atmosfera così che l'aria diventa più pesante, più fredda e succede che questa qui praticamente esplode verso il basso, proprio il termine stesso e praticamente può generare a tal volta, ora questo di mercoledì è stato un caso eccezionale, può anche 20 oltre 100 chilometri orari, quindi non si parla né di tornado né di trombe d'aria ma semplicemente uno scoppio verso il basso di un fortunale, di una tempesta, chiamiamola un bifragio perché effettivamente sono avuto accumulati in un giro di un quarto d'ora anche di 20-30 millimetri che è un'enormità, noi consideriamo che a Rezzo di luglio nelle medie abbiamo 35 millimetri di pioggia in un mese e quindi possiamo capire che se vengono 30 millimetri o 20 millimetri in pochi minuti i danni purtroppo sono rilevanti. Ecco c'è un appello del Comune di Agizzo ma che per la giornata di venerdì si annunciano forti vento e pioggia. Vento senza altro, ora il fatto che già la temperatura è diminuita è l'energia in gioca molto minore, quindi non ci aspettiamo un evento tipo quello di mercoledì, però bisogna stare attenti al vento perché ci sarà il gradiente barico orizzontale praticamente molto ristretto, quindi i venti da grecale o tramontana saranno abbastanza intensi, questo sì. Come piogge secondo me o secondo noi di a Rezzo metro saranno un pochino più moderate e comunque limitate alla prima parte di venerdì, poi nel fine settimana l'anticiclone della Zorri o meglio la sua ala orientale si impossesserà di parte della penisola a partire da ovest e quindi il tempo migliorerà anche sui nostri settori. La settimana prossima poi ai primi giorni, almeno per i primi giorni, per quello che possiamo dire perché oltre tre giorni le previsioni sono fallaci e possiamo dire che comunque ritornerà l'estate a pieno regime.